tangerine squid un'esca che sono particolarmente affezionato un'esca basata su beard fish mix di base arricchita con delle farine di carne e di pesce predigerite l'aroma delicato dello squid si abbraccia a un tangerine olio essenziale molto pungente che lo rende un'esca a 360 gradi veramente in tutte le stagioni vi garantirà un'ottima entrata in pesca e quindi la realizzazione dei vostri sogni la linea big baiting si addice molto al mio stile di pesca perché affrontando principalmente i grandi laghi ho bisogno di molta pasturazione con me nelle mie sessioni quindi vado sempre a coprire delle vaste aree quando pasturo però porto sempre con me anche la linea top boilers questo perché perché mi garantisce comunque sia sullo spot le esche ovviamente una volta creata una grande zona di pasturazione sicuramente per rendere il nostro innesco molto più visibile mi affido alla linea pop up flow che any water fa in diverse colorazioni diverse colorazioni perché perché secondo anche la mia esperienza le pop up flow funzionano molto bene in base alle tonalità di acqua che andremo a trovare al momento delle nostre pescate e alla tipologia di fondale mi sono accorto che su fondali scuri quindi fondali principalmente fangosi con presenza anche di qualche filamento d'erba e acqua abbastanza velata la pop up florescente arancione è quella che mi garantisce veramente un ottimo successo mentre su acque chiare cristalline con tipologia di fondo anche chiaro la gialla florescente è quella che sicuramente si farà notare molto di più o comunque ho notato che ha una marcia in più rispetto alle altre mentre la rosa si addice sicuramente per acque con presenza di erbai sfogliando il catalogo any water sicuramente troverete la coppiata vincente di prodotti per le vostre esigenze di pesca vi invito tutti a dare un'occhiata sul sito any water e da lì poi inseguire il vostro sogno di cattura